Ciao ragazzi di androidblog.it, dopo questo ulteriore temporale estivo andiamo a provare la videocamera da 13 megapixel del Huawei P7 proviamo subito un cambiamento di messa a fuoco su questa pianta come vedete vi è la possibilità di mettere a fuoco in modo manuale proviamo anche un pan veloce e un controluce anche se queste nuvole non permettono molto ovviamente stiamo registrando questo video in full hd e vi è la possibilità di zoomare in modo digitale fino a 4x con una qualità che forse non è fra i migliori ricordo video in full hd registrato con Huawei Ascend P7